Ragazzi, come ben sapete, il 29 agosto sono stati rilasciati due nuovi trailer di Terminator Destino Oscuro. Il primo dei due lo abbiamo già visto nella scorsa reaction video e analisi e posso solo dire che è stato qualcosa di assurdo. Nuove scene e tanta tanta azione. Oggi ragazzi, tocca al secondo trailer e non so davvero cosa aspettarmi. Quindi ragazzi, iniziamo subito! A stava vista ragazzi! Sono sempre io, TheGamerT800, ragazzi! Sì, ci troviamo in una nuova reaction video sul quarto trailer di Terminator Destino Oscuro. Lo scorso trailer, come avete visto, è stato davvero una bomba. Infatti abbiamo visto davvero tantissime scene nuove, tantissime scene esplosive e anche d'azione. Ragazzi, inizialmente abbiamo visto appunto Sarah Connor fare la dura con Grace, perché appunto le due non vanno d'accordo perché Grace non conosce Sarah e Sarah non conosce Grace, quindi appunto vediamo un po' questi litigi tra queste due donne davvero cazzudissime. Abbiamo visto anche scene, a mio dire, importantissime che ritraevano i T-800 e gli anti-air killer arrivare su una spiaggia e fare fuori appunto i soldati della Resistenza. Quindi appunto abbiamo visto anche il T-800 però con il design di Terminator Genisys, quindi non più con il design del vecchio T-800 del primo e del secondo film, ma con il nuovo design di Terminator Genisys. Non so il perché di questa scelta, però ragazzi li abbiamo visti. Abbiamo visto anche un'altra scena del futuro in cui c'era il Rev-9, quindi potrebbe essere il nuovo futuro che si è venuto a creare dopo gli eventi di Terminator 2, dopo i cambi temporali, e quindi appunto vediamo questo Rev-9 dividersi appunto in parte liquida nera e appunto endoscheletro e vanno magari a combattere contro qualcuno. Abbiamo visto anche la presenza di alcuni droni davvero stranissimi, scuri con quattro zampe come dei ragni che volano appunto con questi propulsori che li fanno tenere in aria, quindi non saprei dirvi se sono appunto dei droni magari trasporto truppe dei soldati della Resistenza oppure magari direttamente di Legion, la nuova Skynet, la nuova intelligenza artificiale. Abbiamo visto anche una scena in cui Grace era in una fabbrica e stava combattendo contro la parte di liquido nero del Rev-9 e lo stava tagliando molte volte con una catena. Una scena a mio dire davvero cazzutissima, che ci mostra la potenza di Grace che riesce addirittura a tenere testa a metà del Rev-9 e magari addirittura a sconfiggerlo, chissà. Non mancano all'interno del trailer le scene divertenti ed esilaranti, infatti vediamo una scena ad esempio in cui Sarah Connor, dopo aver sparato molte volte con il suo fucile al Rev-9, dice torno presto e gli lancia appunto una granata addosso facendolo esplodere. Poi ragazzi abbiamo un'altra scena appunto in cui il Rev-9 va appunto in una credo stazione di polizia e appunto dopo aver lasciato le pistole dice l'allarme suonerà lo stesso perché appunto tutto il mio corpo è un'arma e appunto il poliziotto poi gli risponde tipo non fare battute e appunto il Rev-9 vediamo che sa anche scherzare dice mi spiace perché appunto subito dopo starà per uccidere tipo mezzo mondo lì dentro perché appunto sappiamo che è fortissimo il Rev-9 quindi sì ok scherzo e tutto il resto ma poi subito dopo succederà davvero il devasto. Poi ragazzi abbiamo anche visto un'altra scena davvero esilarante, l'ultima scena del trailer in cui appunto Sarah Connor dice appunto al T-800 che appunto io ti ucciderò quando sarà finita e il T-800 fa una specie di smorfia con il viso come per dire eh sì lo so e mi ha fatto davvero sbellicare quindi ragazzi davvero tantissime scene poi bisogna anche capire perché Sarah Connor vuole uccidere appunto il T-800 appena lo vede subito vuole ucciderlo magari pensava ci fosse una persona vera lì invece si ritrova davanti a un T-800 nuovamente quindi non se l'aspettava quindi vuole subito ammazzarlo perché lei sa subito riconoscere un Terminator da una persona normale quindi sappiamo com'è Sarah Connor ragazzi che appunto è fissata con i Terminator quindi vi pare che non riconosce subito un Terminator quindi appunto vediamo quella scena davvero strana vediamo anche una scena in cui il T-800 dice credi nel destino Sarah e non so cosa voglia dire ragazzi questa frase che a mio parere potrebbe essere molto importante e appunto Sarah la vediamo dopo che il T-800 dice questa domanda appunto davvero allibita come se non sa che cavolo deve fare comunque ragazzi abbiamo visto anche tante scene esplosive scene appunto degli aerei che precipitano in cui c'è Grace appesa che urla vediamo anche la scena in cui il T-800 nuovamente appunto prende il Rev-9 lo sbatte per terra e lo spara sul viso quindi scene davvero cazzutissime il Rev-9 in acqua che perfora la Jeep tanta tanta roba ragazzi se non avete visto la scorsa reaction video e analisi vi consiglio di andarla a vedere perché appunto abbiamo fatto anche oltre alla reaction l'analisi approfondita vi ho spiegato appunto passo per passo tutto quello che succede nel trailer se poi mi è sfuggito qualcosa me lo fate sapere o sotto quel video o sotto questo video qua oggi ragazzi dobbiamo andare assolutamente a fare la reaction video e l'analisi di questo quarto trailer e si ragazzi è il quarto trailer perché ce ne sono stati altri altri tre prima di questo e gli ultimi due sono usciti appunto insieme quindi il 29 agosto ci hanno deliziato con questi nuovi due trailer quindi ragazzi non so davvero cosa aspettarmi spero almeno sia un po' diverso da quello che abbiamo visto questo trailer che andremo a vedere oggi non è in lingua italiana quindi non ha neanche sottotitolo e non ha nulla quindi ce lo vediamo così nudo e crudo cerchiamo almeno di capire le scene e di analizzare per bene a questo punto ragazzi io direi che possiamo iniziare con la reaction video mi metto i cuffioni e terminiamo questo trailer eccomi qua ragazzi prontissimo a guardare e gustarmi questo trailer quindi ragazzi facciamo play terminator dark fate new trailer vediamo ragazzi ok inizia nella stessa maniera con grace sul letto e sarah che ripunta la pistola ma grace ragazzi subito la mette al muro e dice appunto prima tu vediamo che succede ok skydance paramount 20th century fox oddio oddio questa sembra tipo la scena di terminator 1 quando il t800 viene fatto esplodere nel camion oddio oddio tutti gli scheletri ragazzi oddio la scena del t800 con gli hunter killer che escono da dentro l'acqua figata assurda ok un'auto una jeep ok vediamo grace appunto e danny ramos ok qui in questa specie di motel magari non so dove si andranno a nascondere ecco ragazzi il drone quello che sembra un ragno ok il teschio che va nell'acqua ok ragazzi il rev 9 che si divide guardate bene stesse scene più o meno un po' diverso oddio ragazzi la scena della sfera temporale del rev 9 quando appare oddio qua non l'avevamo vista oddio raga grace contro il rev 9 col martello l'avevamo già vista grace contro i poliziotti che li fa fuori in due secondi mamma mia ragazzi qui non so che cosa faranno l'apriranno vedranno che cosa c'è sotto poi lei si libera ovviamente ok questa è la scena in cui vengono arrestati ragazzi ok qui è quando vanno a prendere il t800 ecco sale che lo vuole sparare ragazzi oddio 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 che cavolo c'ha il t800 ragazzi oddio oddio danny ramos è incazzatissima ragazzi sarà che spara con una pistola il rev 9 il rev 9 che arriva tutto incazzato ragazzi ok qui lascia le armi e dice appunto tutto il mio corpo è un'arma e dice mi spiace mamma mia ragazzi qui inizia a tagliare tutti tutti i soldati li fa fuori in due secondi ecco ecco la scena ragazzi di grace che inizia a tagliare il braccio lo taglia tutto vedete quante volte lo taglia al rev 9 mamma mia ragazzi vedete il t800 e saracone insieme che sparavano il rev 9 nell'elicottero impazzito della polizia tra l'altro proprio come il team mille ok ragazzi le aeree che si schiantano oddio vedete che roba ragazzi si sta spaccando tutto ecco il t800 che prende il rev 9 dice no tu vieni qui lo spara tutti in faccia ragazzi mamma mia terminator dark fate ecco la scena finale ragazzi torno presto e rilancia la granata appunto ed esplode tutto mamma mia ragazzi che figata assurda nuove scene ragazzi assolutamente nuove scene alcune erano sempre quelle altre ragazzi invece erano assolutamente nuove tipo la scena appunto in cui sara si avvicina a quel fuoco sembrava praticamente la scena in cui tipo nel primo film mentre con kyle appunto dopo essere esploso il camion mentre sono vicino alle fiamme il t800 si rialza magari è tipo una scena molto simile in cui il rev 9 magari esce e si ricompone da sotto le macerie da sotto l'esplosione potrebbe essere ragazzi potrebbe essere non ne sono alquanto certo però tutto può essere a sto punto abbiamo visto anche la scena di grace con più dettagli in cui combatte contro il rev 9 gli taglia un braccio poi lo taglia molte volte avete visto ragazzi la potenza di grace almeno contro una parte del rev 9 ce la fa più o meno diciamo a batterlo a sconfiggerlo l'altra parte dell'endoskeleton non lo so perché lei essendo una cyborg potrebbe essere all'apari o potrebbe essere l'endoskeleton molto più tosto e duro da uccidere o magari distruggeranno prima la parte endoskeleton e poi magari la parte di liquido nero chissà ragazzi non saprei dirvi tanta tanta roba abbiamo visto anche il t800 fianco a fianco con Sarah Connor all'interno dell'aereo a sparare il rev 9 perché il rev 9 una volta arrivato con l'aereo si butterà sull'altro aereo dove si trovano appunto Sarah, il t800 Grace e Danny e appunto cercherà di attaccare loro mentre il t800 e Sarah lo spareranno di brutto e magari lo butteranno via appunto dal portello posteriore dell'aereo chissà ragazzi chissà perché c'è anche la jeep quella benedetta jeep all'interno dell'aereo che poi casca giù e vanno a finire nella diga quindi più o meno collegato un po' a tutte le scene ragazzi abbiamo visto anche la scena molto importante a mio dire dell'apparizione della sfera temporale in aria addirittura in aria del rev 9 cosa che non avevamo visto nello scorso trailer avevamo visto l'apparizione appunto della sfera temporale se non mi sbaglio sotto un ponte appunto perché si vedeva una struttura in ferro che era appunto tutta la struttura che manteneva il ponte quindi la sfera di grace appunto appare sotto un ponte e poi casca per terra mentre quella del rev 9 appare molto più precisa quindi appare in aria tipo in mezzo a dei palazzi e poi cade appunto dritto proprio come il t800 con i pugni per terra quindi ragazzi una figata assurda il suo corpo appunto è molto mingerlino molto stretto come dire è molto magro come il t1000 quando arriva quindi non è come il t800 un bestione no molto più magro e ragazzi che dire tanta tanta roba anche in questo trailer adesso ci andiamo a fare subito l'analisi per cercare di capire il più possibile andremo a bloccare ovviamente e vi dirò la mia quindi analizzeremo per bene se è necessario anche fotogramma per fotogramma cercando di capire il più possibile ok ragazzi facciamo play terminator dark fate new trailer mamma mia ragazzi si inizia già con questa musica bomba una musica potentissima all'inizio o comunque un suono e qui ragazzi inizia il tutto con grace sempre che magari si stava facendo un riposino ma sara appunto le lancia del ghiaccio addosso per farla svegliare e dice subito appunto puntandole la pistola parla e in fretta appunto perché vuole sapere chi è perché sara appunto non conosce gli umani potenziati provenienti dal nuovo futuro visto che grace è un'umana potenziata quindi ragazzi essendo appunto che non la conosce subito le fate delle domande perché sara non si fida di nessuno ognuno potrebbe essere un terminator per sara quindi cioè ogni persona potrebbe essere un terminator quindi sapete che lei ormai non si fida più di nessuno quindi non conoscendo lei dice sta frase qua parla e in fretta e grace la mette subito al muro con la sua potenza quindi andiamo avanti vedete ragazzi mamma mia anche sara connero cazzutessima e lei grace subito fa vedere la sua potenza mettendola al muro e sara manco se la aspetta perché infatti la vediamo poi che all'improvviso si ritrova al muro così schiacciata al muro e quindi ragazzi sara fa parte della vecchia storia di terminator quindi lei conosce il vecchio futuro dove ci sono i t800 e al massimo i t1000 e c'è skynet mentre appunto grace fa parte del nuovo futuro dove ci sono i rev9 e ci sono appunto anche legion e chissà ragazzi che altro c'è nel futuro non si sa comunque lei proviene dal nuovo futuro quindi grace non conosce sara john connor perché fanno parte della vecchia linea temporale ed essendo morto john connor sicuramente magari all'inizio del film tramite un flashback john connor non esiste più e danny ramos è la nuova appunto leader della resistenza quindi grace non conosce proprio sara connor e john connor ecco perché c'è questo c'è sempre questo litigio tra questi due ragazzi perché non si conoscono affatto sara non si fida di lei e appunto grace magari vede sara come un ostacolo non la conosce quindi appunto grace è la protettrice ufficiale diciamo di danny ramos e sara appunto proteggerà anche danny ramos a modo suo quindi ragazzi tanta tanta roba ne vedremo delle belle tra queste due cazzutissime ragazze se vogliamo facciamo avanti qui la mette al muro e poi dice prima tu mi devi raccontare tutto poi ragazzi paramount skydance 20th century fox e ragazzi qui abbiamo una bellissima musica di terminator molto soft molto molto simile a quella scena di terminator 1 in cui il t800 quando esplode il camion verso la fine esce dal camion e va per terra e si inizia a bruciare appunto tutta la carne che ha addosso e appunto ragazzi vediamo che sara molto debole insieme a kyle si abbracciano e si sente quella musica soft appunto di terminator quindi se siete fan della saga ragazzi riconoscerete subito questo in questo momento qui la stessa musica quasi di terminator 1 comunque anche la scena ragazzi devo dire che rimanda molto a quella scena di terminator 1 in cui c'è appunto il camion distrutto con il terminator a terra e ci sono un sacco di macerie e c'è appunto sara con kyle qui kyle non c'è però c'è sara appunto che sta camminando magari qui hanno distrutto non dico definitivamente ma magari lo hanno fermato il rev 9 quindi magari sta andando a controllare se effettivamente è morto o meno credo ragazzi quindi facciamo avanti ecco ragazzi vediamo sara molto molto seria in mezzo alle fiamme vedete ragazzi magari qui si sono schiantati con gli aerei potrebbe essere ragazzi si sono schiantati magari con gli aerei e appunto anche il rev 9 si è schiantato e magari sara con appunto con molta calma stando a controllare se il rev 9 è sopravvissuto o meno però la vediamo molto sospettosa molto incazzata anche la vediamo ferita su una guancia sulla guancia destra magari c'è stato prima un combattimento sicuramente e la vediamo appunto con i vestiti un po' strappati ha ancora qui il giubbotto antiproiettile quindi è in tenuta dal combattimento se vogliamo quindi ragazzi come vi ho detto questa scena qui mi rimanda tantissimo a quella scena di terminator verso la fine il primo terminator intendo in cui appunto sarah è con c'è il t800 che pensano di averlo sconfitto ma non è finita ancora stessa cosa qui magari lo hanno sconfitto ma non è finita ancora quindi magari qui potrebbero aver distrutto l'endoscheletro chissà facciamo avanti qui c'è il mio nome sarà connor qui ragazzi vediamo questa scena dalla spiaggia appunto le onde del mare che appunto arrivano sulla spiaggia e vediamo appunto i teschi umani dei soldati della resistenza che sono morti vediamo tanti scheletri tanti teschi qui andiamo avanti vedete ragazzi vediamo tanti teschi tante ossa qui dei soldati della resistenza che sono morti davvero tantissimi e poi ragazzi vediamo sbucare da dentro all'acqua i t800 ragazzi mamma mia quanti cavolo ce ne sono qui vedo un sacco di occhi rossi nell'acqua e vediamo anche gli anti-air killer che stanno arrivando appunto sulla spiaggia magari per fare un attacco appunto agli umani appunto ai soldati della resistenza ragazzi vediamo anche delle fiamme qui a sinistra quindi stanno già iniziando ad attaccare cioè appena escono di soppiatto da dentro l'acqua del mare magari nessuno si aspetterebbe che escono da dentro all'acqua del mare fanno un attacco a sorpresa e distruggono gli umani quindi ragazzi mamma mia c'è davvero un vasto spiegamento di forze nemiche qui vediamo anche che c'è quella X classica anti-carro magari perché qui potrebbero salire i KC cioè i killer scacciatori che vengono detti da Kyle Reese in Terminator 1 ovvero quei grandi carri con i cingoli che con le due braccia che sparano che vediamo anche all'inizio nella scena del futuro di Terminator 2 quindi ragazzi magari sono per bloccare il KC oppure magari sono messi dai nemici per bloccare i veicoli umani chissà ragazzi chissà comunque sia vediamo appunto tutti questi T-800 design di Terminator Genesis non so perché questa scelta non so perché non hanno scelto il design vecchio dei primi due Terminator dovevano fare così la regola sarebbe stato molto meglio eppure hanno scelto il nuovo design non so perché ragazzi non so perché ma comunque questo ragazzi credo sia un flashback del vecchio futuro mentre Sara racconta appunto magari fanno vedere John Connor nel futuro come leader della resistenza e magari appunto ci fanno vedere tutte le battaglie con i T-800 gli Hunter Killer appunto e tutto il resto quindi ragazzi non saprei dirvi non saprei dirvi sicuramente sarà un flashback perché nel nuovo futuro ci sono appunto i Rev-9 ci sono i nuovi droni quelli strani che sembrano dei ragni quindi cambia tutto ragazzi mentre qui siamo ancora nel vecchio futuro o potrebbe essere metto sempre la parentesi metto sempre il caso che ragazzi potrebbero stare contemporaneamente i T-800 e i Rev-9 contemporaneamente quindi Legion ha costruito sia il T-800 che i Rev-9 potrebbe essere ragazzi potrebbe essere oppure semplicemente un flashback poi mi fate sapere la vostra su questa cosa qua poi ragazzi da notare che i T-800 sono tutti armati fino ai denti con due fucili al plasma in mano quei fucili classici che fanno lo stesso suono in Terminator 1 e 2 quindi hanno lasciato almeno questa cosa qua delle armi uguali però appunto l'endoscheletro è quello di Terminator Genesis però le armi le hanno lasciate uguali anche i suoni quindi sono contento già qui facciamo avanti ecco i T-800 ragazzi mamma mia qui ragazzi vediamo questa scena di questa jeep molto molto scura questo pick up che cammina nel deserto ma non è la stessa scena che vediamo subito dopo dove c'è appunto Sara che sembra essere o in un pick up bianco o in un elicottero quindi non saprei dirvi ragazzi questa non è la stessa scena quindi non saprei chi ci può essere lì dentro magari ci potrebbe essere Danny Ramos magari Sarah Connor la guida e Grace oppure magari è tutta un'altra cosa magari stiamo parlando di un altro personaggio magari potrebbe essere semplicemente il Rev-9 che sta andando da qualche parte e sta usando questo veicolo per andare a trovare appunto qualcuno oppure semplicemente Sarah, Grace e Danny Ramos stanno andando dal T-800 che sta in mezzo appunto al bosco lì nella baita potrebbe essere ragazzi tutto potrebbe essere ma da qui non si può capire molto facciamo avanti vediamo un po' ragazzi vediamo qui appunto questo veicolo che è appunto credo o un elicottero o un elicottero ragazzi o sembra anche un pick up sembra che stanno in un pick up dietro un pick up bianco perché mi ricordo che nel primo trailer ragazzi nel primo trailer del 23 maggio se non sbaglio appunto c'era una scena in cui erano in un elicottero forse ero io che mi ero sbagliato comunque sembra che stanno viaggiando su un pick up bianco c'è questo tizio avanti che non so chi è potrebbe essere un amico di Grace non saprei ragazzi magari una persona che li sta semplicemente accompagnando tipo taxi non saprei ragazzi comunque appunto vediamo che Sara si sta mettendo gli occhiali qui e sta guardando Danny Ramos che si sta facendo un riposino credo e vediamo che Grace la sta guardando e qui magari Sara e Grace parleranno un po' vediamo ragazzi anche questa scena credo in un motello magari nel rifugio di Sara o potrebbe essere anche la Byter del T-800 in cui appunto Sara con Grace e Danny Ramos stanno parlando quindi magari questo qui potrebbe essere il nascondiglio di Sara prima di andare a trovare il T-800 appunto quindi qui appunto si spiegheranno un po' lei dirà che sono umana potenziata e lei dirà appunto tutta la storia di chi è lei Sara appunto facciamo avanti dice appunto ti basta come curriculum e appunto Grace risponde no quindi cazzutissima anche lei poi ragazzi abbiamo questa scena qui oh mio dio ragazzi a parte il drone questa scena l'avevamo già vista nello scorso trailer ma ragazzi a parte il drone che sembra una specie di ragno con una specie di scheletro diciamo una specie di teschio disegnato avanti quindi potrebbe essere o un veicolo da trasporto truppe della resistenza o potrebbe essere semplicemente un drone che lancia magari Rev-9 potrebbe essere benissimo così o potrebbe essere semplicemente un drone tipo un nuovo hunter killer che uccide appunto gli umani magari o andando per terra come un ragno e distruggendoli con varie armi oppure dall'alto sparandoli chissà ragazzi chissà ci sono tante possibilità per il momento mi sembra un drone che va basso per terra quindi non saprei dirvi ragazzi non saprei davvero cosa dirvi secondo me potrebbe benissimo essere un drone legion cioè cattivo tipo dell'intelligenza artificiale e non un veicolo da trasporto truppe della resistenza quindi ragazzi fatemi sapere la vostra su questa cosa qua perché anche il vostro pensiero è molto importante mi fate anche voi capire e fare aprire gli occhi anche su altre cose ragazzi da notare appunto il futuro distopico tutto distrutto palazzi distrutti come giusto che dovrebbe essere ma ragazzi la cosa più importante che dovete notare sono queste colonne qui ve le faccio notare con il mouse ragazzi queste colonne gigantesche ce ne sono una due tre e quattro e chissà quante altre credo che siano colonne di legion non so che cosa ci potrebbe essere all'interno ragazzi sembrano dei palazzi di grattacieli enormi che arrivano addirittura nel cielo quindi ragazzi tanta roba assurda potrebbero essere o degli edifici semplicemente che contengono magari la tecnologia di legion oppure ragazzi potrebbero essere anche dei ripetitori di legion per appunto comandare con un segnale appunto tutti i rev9 tutti i droni che ci sono sul campo potrebbe anche essere ragazzi se ci pensate non avrebbe senso ecco avrebbe senso fanno abbastanza paura questi cavoli di edifici queste cavoli di colonne gigantesche con una fascia rossa su un lato quindi ragazzi da notare forse c'erano anche nello scorso trailer ma non me ne ero accorto quindi attenzione ai dettagli ragazzi quindi potrebbero essere anche terza ipotesi degli edifici che contengono appunto i droni e anche i rev9 magari anche delle fabbriche che costruiscono droni e rev9 e chissà quali altri nemici ci saranno nel futuro quindi ragazzi chissà magari sono degli edifici che si aprono esce appunto il drone o i rev9 e poi si richiude di nuovo chissà ragazzi io credo potrebbero essere o degli edifici con tecnologia legion semplicemente o appunto dei ripetitori che danno comando a tutte le truppe sul campo nemiche oppure ragazzi dei centri delle fabbriche dove vengono costruite appunto tutti i rev9 gli endoscheletri appunto tutte le tecnologie voi fatemi sapere la vostra su questo ragazzi perché io non ho più idee cioè queste tre ipotesi credo bastino e avanzino quindi non credo ci si possa dire altro su questi edifici su questi complessi altissimi quindi ragazzi fanno abbastanza paura perché arrivano nelle nuvole quindi grattacieli enormi facciamo avanti vedete il drone passa e ragazzi subito dopo vediamo appunto cadere questo teschio umano quindi potrebbe essere semplicemente un drone nemico perché ci fa anche cadere guardate ragazzi un teschio umano con un proiettile ficcato qua quindi secondo me ragazzi è collegato il passaggio del drone con il teschio che cade quindi come il drone nemico e l'umanità che cade quindi sapete un po' un'analogia potrebbe essere secondo me è così ragazzi poi fatemi sapere la vostra facciamo avanti ecco ragazzi qui c'è appunto il Rev-9 la scena in cui viene buttato tipo il Rev-9 magari da un drone o magari arriva lui volando tipo saltando da qualche parte vediamo che lì c'è anche un fuoco qualcosa di distrutto e dietro ragazzi vediamo tante macerie pezzi di ferro pezzi di edifici tutto distrutto e vediamo questo Rev-9 che arriva qui ragazzi di tutta potenza e poi subito dopo ragazzi guardate si divide ragazzi si divide in due parti endoscheletro è parte di liquido nero da notare ragazzi che il viso della parte di liquido nero non ha occhi naso e bocca ha una forma tipo occhi naso e bocca ma non ha altro quindi sembra un po' il T-1000 quando non si era ancora formato bene quindi non aveva quando appunto veniva distrutto ogni volta si ricomponeva non aveva appunto occhi naso e bocca era strano sembrava tipo un prototipo di qualcosa e appunto ragazzi qui vediamo che per lavorare meglio per attaccare meglio i nemici il Rev-9 si divide in due parti endoscheletro che segue poi la parte di metallo liquido che è meno forte ecco può attaccare per bene con le lame ma è meno forte diciamo fisicamente quindi ragazzi vediamo che subito dopo l'endoscheletro si è staccato completamente e appunto la parte di liquido nero ha delle braccia delle gambe e vediamo che ha anche dei tentacoli ragazzi proprio dei tentacoli che vanno verso dietro il che non ha senso però io credo che essendo debole abbia bisogno di alcuni arti per muoversi ragazzi molto molto velocemente come una specie di segugio come un cane ecco che va direttamente e va ad uccidere appunto i nemici mentre l'endoscheletro è meno veloce appunto dalla parte di liquido nero che parte all'impazzata contro i nemici perché per arrivare qui il Rev-9 magari c'è Grace qui o magari Danny Ramos del futuro o magari ragazzi semplicemente contro una squadra di appunto ribelli della resistenza quindi non saprei dirvi comunque sta partendo all'impazzata si stacca direttamente e parte direttamente contro i nemici facciamo avanti ok ragazzi ritorna il produttore James Cameron cosa che ci fa enormemente piacere facciamo avanti poi ragazzi vediamo questa scena qua molto molto importante a mio dire ovvero la sfera temporale del Rev-9 che appare appunto all'interno di un edificio avete presente ragazzi quegli edifici tipo quadrati e da sopra appunto c'è il pozzo luce c'è lo spazio all'interno ci sono i balconi che danno appunto sia dall'esterno che dall'interno appunto quel tipo di palazzo lì tipo palazzi messicani appunto del Texas tipo palazzi che ci sono lì magari dei poveri una cosa del genere appunto la sfera temporale appare qui in aria non credo faccia danni però vediamo appunto che le scosse appunto i fulmini che appunto toccano un po' tutta la struttura del palazzo non fanno danni non credo che facciano danni comunque avevo letto tempo fa che quando faranno vedere queste scene qui delle sfere temporali ci faranno vedere ogni singolo dettaglio ed è quello che voglio ragazzi voglio vedere ogni singolo dettaglio assolutamente quindi ragazzi tanta tanta roba vediamo appunto la sfera temporale di un colore un po' più chiaro sul celeste e bianco addirittura con i fulmini bianchi addirittura di mattina ragazzi non credo sia mai arrivato un terminator di mattina no ragazzi sempre di notte di sera quindi è una cosa alquanto diversa quindi ragazzi vediamo che la sfera si crea in aria si vede già all'interno appunto una forma umana quindi il Rev9 che sta all'interno appunto della sfera è pronto per uscire facciamo avanti vedete ragazzi sembra che appena si toglie la sfera appunto il Rev9 cade e subito dopo ragazzi cade per terra preciso con i puni per terra le gambe esattamente nella posizione come arrivavano appunto i T-800 i T-1000 nei vecchi film Terminator 1 e Terminator 2 quindi ragazzi molto molto bene hanno lasciato questa cosa qui da notare ragazzi che la cosa abbastanza ridicola è che arriva al centro di questo palazzo ci sono un sacco di porte attorno dove vivono le persone ci sono le bucalette le casse dalla posta ci sono un po' di piante c'è appunto anche dietro addirittura il cesto per la biancheria quindi ragazzi tanta tanta roba vediamo appunto il fumo per terra quando lui arriva quindi tutto concentrato tutto serio ragazzi la sfera la sfera appunto si crea in aria lui cade e arriva appunto preciso per terra in questa maniera alzando tutta la polvere tutto il fumo tanta tanta roba facciamo avanti quindi ragazzi qui vediamo appunto l'arrivo del Rev-9 che non avevamo visto nello scorso trailer non c'era proprio la scena quindi sono molto contento che l'abbiano messa è molto importante a mio parere e lo vediamo qui molto incazzato comunque molto serio visto che non ha emozioni quindi magari le può simulare le emozioni come abbiamo visto nella reaction video di oggi appunto che può sorridere può ridere però ragazzi è comunque abbastanza serio quindi lo vediamo che arriva stessa posizione del T-800 e del T-1000 quindi molto bene e ha un fisico diciamo un po' più pieno più muscoloso del T-1000 non ai livelli del T-800 perché quello lì è un bestione però ragazzi siamo lì dai andiamo avanti ok ragazzi abbiamo questa scena qui in cui Grace e Danny Ramos sono qui vicino al ponte che non hanno più via di fuga perché l'endoskeleton del Rev-9 sta lanciando appunto i tondini quelli lì appunto di ferro che Grace stava lanciando prima quando era appunto su pick up e stava lanciando appunto i tondini al camion giallo quindi ragazzi vi ricordate roba del primo trailer e quindi ragazzi appunto il Rev-9 li restituisce il favore nel senso che lancia anche lui i tondini contro Grace quindi sono lì bloccate però ragazzi vediamo anche la scena in cui Grace dice sono qui per proteggerti vediamo Danny Ramos e anche il fratello di Danny Ramos a destra vediamo ragazzi ecco vediamo appunto il Rev-9 credo al completo sì credo che qui sia al completo vediamo che sono in una fabbrica dove stanno costruendo tipo le auto sì ragazzi credo sia una fabbrica di auto attenzione vediamo dei tizi là a terra credo ci sia tipo Danny Ramos lì per terra e magari il fratello ma non so se il fratello ragazzi quella somiglia da lontano ma non credo sia perché muore appunto e vediamo il Rev-9 che tipo sta facendo sta preparando la lama e sta per tagliare appunto Grace guardate ragazzi però Grace appunto con il martello lo lancia via qui arrivano i poliziotti lei si mette la mano avanti perché appena è arrivata quindi i sensi sono un po' intorpiditi sicuramente facciamo avanti ecco ragazzi in due secondi batti i poliziotti guardate ragazzi che poi non ho capito perché lo fa perché forse non conoscendo il poliziotto forse perché deve fare subito la missione li elimina in due secondi chissà qui ragazzi vediamo appunto Grace girata verso di noi con il giupo antiproiettile e davanti c'è il T-800 notiamo che stanno andando da qualche parte magari sempre nella fabbrica a fare qualche missione particolare o comunque a distruggere il Rev9 andiamo avanti ok ragazzi qui sono sul lettino ci sono tipo questi medici non so che cavolo è successo ragazzi vedete lei ha tipo dei numeri sulla pelle tipo come Kyle Reese che appunto faceva parte di Techcom e aveva appunto un codice che adesso non ricordo comunque ragazzi appunto abbiamo Grace che viene aperta è una specie di sottopelle come una retina che appunto la rende magari più forte appunto di un'umana normale è stata potenziata sembra anche che ci sia una specie di liquido una specie di olio strano sotto la pelle quindi ragazzi non saprei dirvi tra l'altro sembra tutto tumue fatto vediamo che c'è proprio la forma della retina dovunque e quindi non so perché Grace è andata a finire qui e la stanno tipo operando per vedere che cavolo è non lo so magari non è cosciente in questo momento e la devono andare a salvare magari Sara e Dani magari anche il T-800 facciamo avanti ecco lei si libera inizia a dare mazzata tutti questi poliziotti questi militari comunque sembra essere un ospedale questo qui vedete ragazzi mamma mia ok qui e dove vengono arrestati abbiamo Sara Grace Dani Ramos e c'è un altro ragazzo che potrebbe essere anche il fratello di Dani Ramos a giudicare da dietro ragazzi potrebbe essere lui o potrebbe essere qualcuno che li sta aiutando tipo qualche amico di Sara o qualcun altro qualche amico di Grace potrebbe essere arrivato anche lui dal futuro chissà ragazzi chissà comunque sia non lo so chi è potrebbe essere il fratello di Dani Ramos da dietro sempre così ma non lo so ragazzi non ne sono a quanto certo facciamo play ok vedete vengono arrestati lei alza le mani e qui Sara appunto sta parlando con Grace non so di preciso dove sono ok ragazzi qui è il momento in cui vanno a chiamare il T-800 vediamo Sara con una faccia strana e vedete qui la vediamo tipo stare di fronte mentre appunto nella scena che abbiamo visto nello scorso trailer era a un lato e appena il Terminator esce cerca di spararlo appunto col fucile a pompa ma Grace la blocca quindi vediamo Grace abbastanza stranita vedete il T-800 esce ecco ah è come se Sara è davanti in questo momento quindi prima si mette là poi quando esce magari si mette più avanti e cerca di ammazzarlo guardate vedete ragazzi lei rimane tipo scioccata a vederlo ok ragazzi poi vediamo che credo il T-800 clicca qualcosa tipo questo tasto rosso ragazzi se il T-800 quello clicca e riescono appunto tutti i bersagli ragazzi che cavolo ha il T-800 nella sua bait cioè attorno alla sua bait cioè in mezzo al bosco ha creato tutti i bersagli e fa allenare forse tutti quanti sia Danny Ramos specialmente sia Grace e sia magari anche Sara chissà vediamo appunto che il T-800 vuole aiutare una cosa del genere dice vedete ragazzi che cavolo di fucilazzo che ha Danny Ramos in mano Sara ha le cuffie perché il suono sarebbe tipo potentissimo e il T-800 che cavolo di abiti ha ragazzi ha appunto una giacca a quadretti rossi tipica bella e poi ragazzi ha i pantaloni normali e gli scarponi vediamo un sacco di armi sul tavolo lì Grace molto molto seria e sta guardando Danny magari come se la cava a sparare tra l'altro gli abiti di Danny Ramos in questo momento mi ricordano tantissimo Sara Connor nel primo film i jeans e la maglietta bianca non lo so perché ragazzi mi ricorda la ragazzina che era Sara Connor all'inizio adesso vedere la vecchia fa strano comunque facciamo avanti vedete ragazzi spara tipo all'anguria se non sbaglio spara tipo all'anguria vediamo se dico bene sì ragazzi sì ragazzi un'anguria ecco mamma mia da Tim Miller direttore di Deadpool ok ecco ragazzi qui vediamo Danny Ramos che si sta incazzando di brutto e sta dicendo che tutti quanti moriranno per colpa mia da quello che ho capito e ragazzi questa scena mi ricorda tantissimo la scena in cui Sara Connor nel primo film insieme a Kyle Reese sotto il ponte dice che non posso essere io la madre di John Connor appunto la combattente che tutti ammerano nel futuro quindi una cosa del genere solo che Sara non si incazza più di tanto mentre qui appunto Danny Ramos sbotta di brutto facciamo avanti qui ragazzi vediamo l'aereo del Rev-9 che si sta scontrando contro l'aereo dove sono all'interno Grace, T-800 Sara e Danny e poi vediamo appunto che il Rev-9 salta su quell'aereo e entra all'interno vediamo ecco ragazzi guardate poi ragazzi vediamo quest'altra scena di Sara che spara con una semplice pistola che non farebbe nulla al Rev-9 appunto mentre sta arrivando facciamo avanti vedete ragazzi mamma mia poi lo vediamo scendere dall'elicottero dalla polizia magari mentre si è danneggiato del tutto vediamo che è tutto bucato in faccia vedete gli effetti davvero bellissimi andiamo avanti ok ragazzi qui vediamo la scena di Danny Ramos che è qui in mezzo alle fiamme in mezzo alle macerie e questa scena si potrebbe collegare alla scena in cui Sara Connor anche lei in mezzo alle macerie e mezzo alle fiamme quindi si potrebbe collegare benissimo magari sono cascati tutti e due gli aerei magari vicino alla diga e appunto la distruzione causata dalle aeree ha scatenato appunto il fuoco qui la macerie e tutto il resto quindi credo si colleghi a quella scena in cui Sara Connor all'inizio di questo trailer sta guardando appunto attorno in cerca magari del Rev-9 facciamo avanti ok quindi Grace all'interno dell'elicottero dice tutti quanti moriranno e sta parlando con Danny Ramos andiamo avanti ragazzi qui ragazzi vediamo il Rev-9 che va appunto all'interno della stazione di polizia militare qui e credo che sia un easter egg diretto con la scena di Terminator 1 quando il T-800 va alla stazione di polizia per Sara Connor dice sono un amico di Sara Connor so che è qui potrei vederla e appunto il poliziotto dice di no e poi entra con la macchina all'interno qui invece fa una cosa del genere però parla poi ragazzi lascia le armi vedete scherza e poi diventa serio subito dopo ma che cavolo cioè vedete tipo simula le emozioni tipo ride e poi subito dopo ritorna serio va qui e dice mi spiace poi ragazzi inizia a tagliare tutti guardate ragazzi cioè tutti quanti i militari perché questi qui sono militari col caschetto cercano appunto di fermarlo e non ci riescono ragazzi li infilza tutti quanti effetti della madonna cioè li infilza proprio come il T-1000 quindi tanta roba assurda avanti mamma mia ragazzi poi vediamo Grace attenzione ragazzi dietro c'è un muletto quindi questa dovrebbe essere sempre la famosa fabbrica delle auto quindi sono sempre qui a combattere quindi la prima volta quando è intero poi magari sconfiggono l'endoscheletro e rimane la parte liquida chissà chi lo sconfiggerà magari Grace e il T-800 insieme chissà facciamo avanti vedete ragazzi ritaglia il braccio si vede praticamente che le ha tagliato il braccio e poi continua a tagliarlo con la catena vedete essendo di liquido si taglia facilmente vediamo appunto che la Jeep che era appesa col paracadute tipo dopo essere caduta dall'aereo al paracadute quindi la Jeep casca qui vicino alla diga e tipo va in acqua appunto poi ragazzi vediamo di nuovo questa scena della resistenza nel futuro appunto si vede questo veicolo esplodere e tipo i militari qui della resistenza vengono fatti fuori vedete poi ragazzi questa scena qui mamma mia ragazzi mamma mia all'interno dell'aereo praticamente si vede il T-800 imbracciare un'arma davvero strepitosa che era quella che aveva se non mi sbaglio Danny Ramos prima e vediamo Sara avere un M4 col mirino e sparare di brutto ragazzi bellissimo vedere Sara e il T-800 a fianco a fianco spero solo che Sara realmente non uccida il T-800 alla fine di tutto perché stronerebbe assai ragazzi stronerebbe assai facciamo avanti ok ragazzi ho visto una cosa davvero interessante ecco vediamo l'elicottero del Rev-9 che sta andando verso appunto l'aereo di linea dove sono il T-800 Grace Sara e Danny Ramos e sta sparando proprio come faceva il T-1000 appunto al furgone blu appunto della polizia con cui stava scappando il T-800 con Sara e John quindi ragazzi mamma mia quanta cavolo di roba tanti ricordi anche e quindi vediamo che il Rev-9 usa la stessa tecnica di sparare con la mitragliatrice da dentro all'elicottero mentre loro stanno scappando con l'aereo addirittura quindi è qui che il Rev-9 sicuramente riuscirà a saltare oppure prenderà un aereo qui e andrà appunto sull'aereo poi ragazzi dice quando avremo finito dice Sara ti ucciderò poi non so cosa dice ragazzi comunque vediamo il Rev-9 ferito in faccia appunto dai proiettili e l'elicottero che inizia a impazzire guardate mamma mia il camion giallo che butta le auto per aria qui dovrebbe essere la morte del fratello di Danny Ramos di regola ecco qui vediamo l'aereo ragazzi squarciato su un lato tutti i pezzi che stanno volando via ecco ragazzi il motore che si stacca Sara che appunto per il vuoto d'aria che si viene a creare inizia a cadere ha un fucile a pompa da combattimento in mano e cerca appunto di tenersi per non uscire appunto dall'aereo perché essendoci lo squarcio vieni trascinato fuori ecco anche i danni ragazzi tutti quanti vengono trascinati guardate guardate mamma mia ragazzi il T-800 lo prende il Rev-9 che stava scappando stava cercando di entrare all'interno qui sembra che stiano già volando e lo sfara in faccia ragazzi guardate ma il Rev-9 è troppo forte ragazzi non si può far nulla qui assolutamente quindi Terminator Dark Fate e poi come scena finale qui cambia dice I'll be back cioè tornerò scena cioè scena iconica ragazzi che rimanda al Terminator T-800 che dice sempre I'll be back nel primo Terminator e nel secondo e anche nel terzo e anche in Genesis quindi tanta roba esce il fucile ragazzi mamma mia con l'esplosione dietro quindi tanta tanta roba ragazzi dopo aver visto e analizzato per bene il trailer posso solo dire che mi ha convinto molto molte scene sono appunto le stesse del scorso trailer ma alcune ragazzi sono scene nuove tipo per esempio la scena in cui appunto la sfera temporale del Rev-9 si crea e appunto appare il Rev-9 nel presente quindi ragazzi ci voleva una scena del genere nello scorso trailer ci avevano fatto vedere appunto la comparsa della sfera temporale di Grace sotto un ponte e appunto la caduta di Grace in quel canale perché appunto c'è una strada sopra e poi c'è un canale sotto a quanto pare e invece ragazzi in questo trailer ci fanno vedere dove appare il Rev-9 e non credo ci faranno vedere l'apparizione del T-800 nel passato con la sfera temporale non credo ragazzi non credo perché credo ci narreranno la storia del T-800 ce la faranno capito in qualche modo ma non con l'arrivo del T-800 magari nel passato negli anni 90 chissà chissà perché per essere vecchio il T-800 ragazzi sicuramente sarà arrivato come protettore magari di John Connor nel passato non sarà riuscito a proteggerlo e quindi sarà rimasto così a fare altro quindi aveva preso la vita di un'altra persona rifugiandosi in quella bite sicuramente quindi ragazzi che dire no un trailer davvero bomba nuove scene abbiamo visto qualche scena nuova del futuro tipo quella lì del drone dove ci siamo accorti appunto che c'erano quegli enormi palazzi sicuramente di Legion dell'intelligenza artificiale potrebbero essere benissimo dei ripetitori come vi ho detto oppure tipo come dire ragazzi degli edifici da cui poi escono i nemici quindi i Rev-9 i droni chissà quali altri nemici ci saranno non lo vuoi immaginare quindi magari nel prossimo trailer ne vedremo ancora di più di cose quindi spero di vedere anche qualche nuovo modello di Terminator oltre al Rev-9 anche se credo sarà tutto concentrato sul Rev-9 questo nuovo modello e ragazzi spero ci faranno vedere anche nuove scene del futuro quindi con Grace che combatte magari nel futuro contro il Rev-9 ci fanno vedere anche come sarà la cava ci fanno vedere anche Danny Ramos appunto del futuro c'è tanta roba ragazzi che ci potrebbero far vedere comunque sia ragazzi sono davvero contento che abbiano messo in questi trailer appunto la scena dei T-800 anche col design di Genesis ma li hanno messi ragazzi i T-800 endoskeletri con gli Hunter Killer per gli affezionati alla saga spero che ci facciano vedere almeno dieci minuti di quel futuro perché ragazzi porca miseria non l'abbiamo mai visto correttamente in Terminator 1 e 2 più o meno erano delle scene diciamo di cinque minuti pochissime in Genesis ci sono parecchi minuti però ci fanno vedere un po' tutti i nemici che ci sono nel futuro non solo il T-800 vorrei vedere un po' di combattimento con il T-800 nel cavolo del futuro ragazzi sì voglio vedere questo voglio vedere anche il Reve 9 sì certo però quello sarà tipo un altro futuro quindi voglio vedere un po' qualche scena futuristica con il T-800 che combattono magari contro John Connor contro la resistenza voglio vedere un po' di questa roba qua e sono convinto che anche voi volete la stessa cosa poi ragazzi fatemi sapere la vostra su questo nuovo trailer sul quarto trailer su quello che ho detto io nell'analisi fatemi sapere la vostra fatemi sapere se non ho notato qualcosa me lo fate sapere qui sotto nei commenti ovviamente perché come vi dico sempre anche il vostro pensiero è importante anche se mi fate notare una cosa ragazzi molto bene vuol dire che siete molto partecipi e appunto ci tenete a ciò che faccio sicuramente ragazzi vi porterò qualche altra reaction video su Terminator Destino Oscuro perché oltre a questi due trailer che sono usciti il 29 agosto sempre il 29 agosto sono usciti altri mini trailer tipo da 16 secondi più o meno e anche delle interveste che vorrei portare sul canale e vedere con voi non le ho ancora veste ci sono le anteprime che mi fanno capire che sono appunto delle interveste ma ci sono anche dei piccoli pezzi appunto di trailer che ci sono in questi trailer qua che appunto ci fanno notare altre scene nuove perché me ne accorgo appunto sempre dalle anteprime non le ho ancora aperti questi trailer e quindi ragazzi mi piacerebbe portarveli sul canale farci la reaction e l'analisi assieme a questo punto io credo di aver detto tutto e quindi niente ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto se volete ragazzi lasciate un like condividete iscrivetevi se non siete iscritti alla prossima grazie a tutti Grazie per la visione!